Meda Magenta Bianconeri stanno bene, lo dimostrano, costringono sulla difensiva il Magenta, ma i tiri da fuori non vanno a buon fine. La chance più unite dal minuto 21, palla da destra che arriva a Pozzoli, il numero 11 controlla e spara, parata super di Tagliento che mette in corner. Si dispera il numero 8, mentre il Magenta passato alla paura si fa vedere in attacco, break giallo-blu sulla sinistra, Pedrocchi entra in area, Mawor si chiude e mette in corner. Giallo-blu pericolosissimi in spazi aperti, il Meda lo sa, ma il Magenta riesce a sfondare con Avinci che scarica su Pedrocchi, pallone di ritorno, gran chiusura, Dino uscita di Cassina. Carpio nel pallone, poi l'azione sfuma a Vinci, però si conferma Big anche da Under, ricordiamo, è un 2003, l'attaccante ex Cassa Sacconago, il numero 9 serve Cominetti che spara a lato con un tiro deviato dalla difesa del Meda. Dal corner seguente Pedrocchi prova a sorprendere tutti, ma spara alto dopo uno scambio con un compagno. Il primo tempo si chiude con il Meda in attacco, tiro da fuori di Orsi, para Tagliento, 0-0 bella partita, Meda che tiene testa al Magenta con le immagini nella ripresa, i bianconeri di Cairoli si confermano su livelli alti, Pozzoli ruba palla a metà campo e prova il break, il numero 11 arriva fino al limite dell'area e tenta il tiro parato da Tagliento, attento anche dopo sul tiro di Lanzarini. Al minuto 10 il Magenta trova il gol, cross di Sala, colpo di testa sul secondo palo di Avinci, palla che danza sulla linea, ma il primo assistente fa subito segno che il pallone è entrato tornando verso la metà campo e il Magenta esulta per il gol, 0-1 proteste Meda, ma il Magenta avanti. Meda che prova a reagire, colpo di testa di Pozzoli a lato non di molto su cross di Orsi, poi palla messa dentro da Martino dalla destra, batti e ribatti e tiro alto sopra la traversa. Ma il Magenta ancora una volta in campo aperto crea grattacapi, Avinci serve Cominetti che parte in velocità, ma ancora una volta Cassina resta in piedi fino all'ultimo e sventa la minaccia. Ma con un Meda tutto avanti a cercare il pareggio, l'azione si ripete poco dopo, fuori gioco fatto male, oltre la metà campo ancora una volta Cominetti si invola, rientra Orsi che spende il giallo sul numero 11 giallo blu. Sulla punizione seguente la barriera devia il tiro di Pedrocchi, ma il pallone è calamitato da Vinci che col piattone fa 2-0, segnando la doppietta personale e il gol numero 12 in campionato. Partita chiusa? Assolutamente no, il Meda reagisce, Martino e Lanzarini assistono Pozzoli che col destro segna così il gol del 2-1. Quei bianconeri che recuperano subito il pallone, tornano a metà campo, minuto 73, c'è ancora tempo per raddrizzarla, ma la punizione di Valtulina va a lato di un nulla. Il Meda si dispera, attacca nel finale e protesta dopo questo lancio lungo per un presunto tocco di mano di Nossa, ma l'arbitro fa segno che non è rigore, così dopo 6 minuti di recupero il Magenta può esultare al triplice fischio. La squadra di Lorenzi vince sul campo del Meda e si gode il sabato sera in vetta aspettando i big match.